Buongiorno a tutti, dicono così nelle famiglie normali. Lois, mi porto via la colazione, vado a pescare con i ragazzi. Ma dovevamo passarlo in famiglia questo fine settimana, vai di nuovo a pesca. Sì, perché adoro pescare. Pescare è stato il mio poco immemorabile mestiere per due anni, ricordi? No. Non ti ricordi la mia barca? Non ti ricordi di Santos e Pascal? No, neanche un po'. Erano due con suela al maschile, ma il guaglio è che erano portoghesi. La gente non sa neanche cos'è un portoghese. Io pensavo che questi fossero due portoghesi. Ho portato il cervello al banco dei pegni e questo è soltanto l'inizio. Che strano, Quagmire non è mai in ritardo. Già. Cacchio, non ho mai parlato da solo con Joe prima d'ora. Che imbarazzo. Avanti Joe, se no lo perdi. Di qualcosa, è un'occasione d'oro. I due terzi del pianeta sono acqua. Sì, i due terzi del pianeta sono acqua. Forti questo Joe. Senti, cerchiamo di capire perché Quagmire non è ancora venuto. Sì, hai ragione. Sai che pensavo? Magari una di questa sera e ceniamo insieme, solo noi due. Sì, molto volentieri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.